E mai era lo Shakhtar? E mai era lo Shakhtar? Zitti, zitti, dovete sta' zitti! E voi non siete manco in Europa! Zitti! Perché almeno noi, cazzo, che è l'unica squadra italiana che riesce a vincere le partite in Europa, veramente. Oh, godo! E non era facile, cazzo, non era facile. Cazzo, lo Shakhtar... Zitti! Lo Shakhtar intanto non è una squadretta, non è una squadretta perché ai gironi d'Europa League ha pareggiato tutte e due le partite con l'Inter e ha vinto sia l'andata che il ritorno con il Real Madrid. Zitti ha fatto otto punti, è uscita con otto punti. Poi naturalmente è andata in Germania e in casa col Mongeo Glamba che ci ha preso dieci gol a zero. Però erano quelle partite che poi hanno fatto riflettere il mister. Allora... Ah, sono contento! 3-0, felice come una Pasqua! Ah, posso andare a dormire felice! Cazzo! Ah... Allora, sono veramente contento perché la Roma ha giocato bene, perché è stata una partita dominata in cui noi abbiamo giocato nettamente meglio, anche se lo Shakhtar non ha giocato male. Ha fatto comunque una buona partita schifosa, indegna se fosse schifosa lo Shakhtar. Però comunque la Roma è più forte, possiamo dirlo. Poi era anche abbandaggiato dal fatto che Fonseca praticamente sa come gioca lo Shakhtar, sa esattamente come lo doveva affrontare e proprio si è visto, perché sugli esterni soffrivano come dei pazzi. Soprattutto gli esterni, quindi i trequartisti soprattutto, che si allargavano e puntavano il centro. L'ha i difensori a fratte, perché soprattutto i lanci, i lanci dalla difesa, veramente... Da lì è arrivato per esempio il gol di Esharawi, ma tantissime occasioni proprio per Esharawi. Sempre da lì... Diciamo che dalla fascia destra, lo Shakhtar è molto debole, soprattutto per il centrale di destra. Anche il terzo... Toto mi piace, non è un pippone clamoroso. Tra l'altro ha tenuto molto bene Spinazzola, però non è un fenomeno, cioè si vedeva tranquillamente, soprattutto con attaccanti... Con il raddoppio su Dodo, cioè nel senso... Se ci va Spinazzola, ci serve un appoggio, in quel momento Dodo va in netta difficoltà. Lì siamo stati bravissimi, perché praticamente nascono tutti e due i gol su azione che abbiamo fatto da quel punto, poi l'altro su calcio d'angolo. Tra l'altro, allora... Cazzo, devo dire... Migliore in campo... Fatico a trovarlo, nel senso che ce ne sono tantissimi, però voglio premiare Lorenzo Pellegrini e dargli un bel 7,5, barra 8, però gli do 7,5, non mi voglio tenere troppo alto, perché comunque sono stati tutti a livello altissimo, non hanno fatto tutti una partita perfetta, anche perché ci sono stati un po' di errori e poi è stato Paolo Opec, bravissimo, comunque oggi ho giocato veramente bene. Allora, non era una partita facile, perché lo Shakhtar era un'ottima squadra e noi ne avevamo già affrontato, non è stata assolutamente facile passare quel turno, poi il fatto anche che giocavamo in casa la prima, era tutta una complicanza, però alla fine l'abbiamo portata a casa tranquillamente. Troviamo il primo gol con una giocata pazzesca di Pedro, che la indovina molto bene per Pellegrini, con noi che attaccavamo, Pellegrini giocava molto bene, andava lui spesso vicino al gol. Siamo partiti con Mkhitaryan centrale, che poi è uscito per l'infortunio, mannaggia il demone, perché stava per fare un gol pazzesco dal pallonetto, perché il portiere, non lo so, è impazzito, però Mkhitaryan purtroppo si è rotto. Vedremo cosa è successo, comunque non è all'osso o comunque ai legamenti, credo sia un infortunio muscolare, quindi starà più o meno i tempi di Veretout, che comunque è un mese, però più giù di lì starà quel tempo là, vedremo, forse anche di meno. Però spero veramente, cazzo che sia un infortunio il meno grave possibile, perché ci serve come il pane. Poi naturalmente noi abbiamo anche tanti trequartisti, però anche Diavara si è rotto, però vedremo, Diavara mi sembra meno grave. Mancini tra l'altro sembrava, cioè potesse essere rotto, alla fine ha pure segnato, quindi che cazzo me ne fotte. Non credo alla fine si sia effettivamente fatto male, veramente. Comunque, l'importante vince, cioè noi abbiamo comunque tanti giocatori, e se il Sharaoui gioca così, anche il campionato, cioè raga, la Champions è alla portata, mo cazzo. Crediamo anche nelle Europa League? Sì, voglio credere in tutte le competizioni che ho, voglio credere sia nelle Europa League sia nel campionato, perché ho tanti giocatori, posso crederci. Se ho tanti giocatori io ci posso credere. La prossima è col Parma, quindi comunque ci sarà un mezzo turnove sicuro, tipo per esempio Carlsdorp, credo riposerà, però vedremo. Quindi giocherà, credo, molto probabilmente Spinazzola e Bruno Perez. Credo, altrimenti fuori Spinazzola. Spero di no, perché Spinazzola è proprio insostituibile, però va bene. Allora, parlando invece di come i giocatori migliori. Allora, partiamo della partita, poi, anzi, continuiamo a parlare della partita. Arriva poi il gol molto bello di Pellegrini, su quest'assist pazzesco di Pedro. La partita continua e finiamo il primo tempo con delle occasioni per fare sicuramente il gol del 2-0, però non tante. Più che altro, nell'ultima parte, dopo l'uscita di Mkhitary e l'entrata di Mario Rall, lo Shakhtar ha ripreso un po' coscienza e ha provato pure il gol. Non c'è l'uscita, con una bella parata di Paolo Lopez su un tiro. Secondo tempo, lo Shakhtar entra, stesso come era finito il primo tempo, entra cattivo, cioè ci prova almeno, entra sicuramente con un viso diverso rispetto all'inizio della partita. Secondo me è stato tutto l'uscita di Mkhitary e l'entrata di Borja Mayoral, che ci ha fottuti perché noi eravamo improntati per quel gioco, con quel tipo di giocatore là. Con Mkhitaryan che si va a inserire, che va a fare quel tipo di giocata, cioè Mkhitaryan è quel tipo di giocatore e non è sostituibile a cazzo di cane, cioè devi avere un'idea per sostituirlo. Allora, poi, poi, devo dire, fortissimo, ci sono stati dei giocatori che mi hanno stupito, dei giocatori che mi hanno letteralmente stupito, oggi. Un altro di questi, sicuramente uno dei migliori in campo è stato Cristant, che ha fatto una prestazione incredibile. Poi ne parleremo nelle pagelle, va bene. Però comunque volevo parlare del fatto che a un certo punto entra El Charawi, esce Pedro, che è iniziato il secondo tempo un po' maluccio, fa, da una, El Charawi gioca pazzesco, in una maniera pazzesca e risolve una partita, secondo me, perché da quel momento abbiamo sprezzato energia da tutti i pori. Sbaglio un gol davanti alla porta su assist di Pellegrini. Il secondo gli dà una palla bellissima cristante, che cazzo è, cioè, che ne so, mi sembra Beckenbauer, per dire. Fa un lancio pazzesco, un lancio quasi alla Bonucci, che è uno dei difensori, secondo me, che imposta meglio con i lanci lunghi da dietro. Fa un lancio bellissimo. Poi El Charawi non riesce a concretizzarlo. L'ultimo gol arriva, secondo me, con un'azione... Cioè, il penultimo gol. Il secondo gol arriva con un gol pazzesco di El Charawi, che si scarta due difensori, il Dodò e l'amico Fritz, e riesce a, con un cucchiaio, superare il portiere. Là un gol pazzesco, benedicimi tutto. El Charawi torna al gol, il faraone, è tornato il faraone. Dai per il faraone. Primo gol ufficiale con la Roma, torna il faraone. Daglie. Poi, la Roma non si ferma. Va avanti, anche perché lo Shakhtar stava crepando. Poteva anche prenderne un altro, secondo me, il quarto gol. Poi a un certo punto ci siamo pure noi. Abbiamo detto no, abbiamo fatto entrare tutti i pipponi. Abbiamo detto, vabbè, teniamoci sul risultato che è meglio. Non cerchiamo di affondare che va a finire una ripartenza. Anche se secondo me lo Shakhtar veramente si era adagiato sugli allori. Però fa un gol clamoroso, secondo me, poi Mancini. Cioè, a quel punto, tanta spinta. Poi, alla fine, sul calcio d'angolo lo sblocchiamo. Non riusciamo a far trazzare ancora Mancini. Quinto gol in stagione. E terzo consecutivo, credo, dopo quello al Genoa e un altro. Se non mi sbaglio, quello contro l'Udinese. O no? Credo di sì. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Però quello con l'ultimo, per esempio, quello con il Genoa la scorsa giornata. Quindi, comunque, tra l'altro un gol decisivo. Stavolta chiude la partita. Gol pazzesco. Salta bene sul calcio d'angolo. Con una facilità pazzesca. Marcato un po' male dai... Vabbè, Ismaili è un nano. Con un assist molto bello di Cristante. Che la spizza sul calcio d'angolo. E gliela mette davanti. Proprio, la devi solo inserire. Bravo, Cristante che è stato... Ha fatto un assist. Ha fatto dei lanci pazzeschi. In difesa non si è fatto supera mai. Uno dei migliori in campo. Vai. Vai con le pagelle. Ok. Allora, intanto, comunque, la partita non è finita. Il passaggio del turno ci dobbiamo... Ora dobbiamo affrontare il ritorno, mi raccomando. Allora, Paolo Lopez, 7. Fa tre interventi pazzeschi. Poi, impostazione, sbaglia anche lui. Però non fa errori gravissimi. Sicuramente, però, fa delle parate pazzesche. E gli va dato merito che... Ogni tanto le sue qualità le fa vedere. Cioè, gli manca l'impostazione, secondo me. Gli manca proprio quello. E per il resto è un grande portiere. Poi, in difesa, Mancini. Voto 7 anche lui. Pazzesco. Prestazione superlativa. Prestazione incredibile. Ci ha fatto vedere tutte le sue qualità fisiche. È andato su Tyson duro, durissimo. E poi, alla fine, ha preso un giallo che è stato un po' comico. Perché, naturalmente, l'albitro gli ha fatto 1, 2, 3. Anche perché poi l'ha mandato pure a quel paese. Però gli ha fatto 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, ne aveva fatti tantissimi di falli su Tyson. Ha detto, basta, basta. E gli ha dato il giallo. Giusto? Giusto, perché ha 206 falli. Va bene, daglielo. E, alla fine, diciamo che... La prestazione è stata ottima e continua così. Sta stagione è pazzesca. Ho sbagliato a non metterlo nei migliori 10 centrali. Forse sì. Però lo metterò sicuramente nella top finale. Poi, Cristante, vi ho detto... Ah, Cristante voto 7 più. Fa un assist. Prestazione bellissima. Difensivamente è pazzesco. È il migliore dei difensori oggi. Quindi, niente, ho già detto tutto. Fa un assist. Fa tanti lanci lunghi. Imposta da dietro molto bene. Non si fa mai superare in velocità. Ha retto molto bene il confronto con il loro attaccante. Per me, prestazione bellissima. Kumbulla voto 6,5. Prestazione veramente positiva anche la sua. Tanta quantità. Tiene molto bene i suoi avversari. Gli potevo dare anche di più, però non voglio esagerare. 6,5 è giusto. Prestazione molto, molto positiva. Ogni tanto sbaglia i rimbi, ma ci sta. Cioè, comunque non ha dei piedi favolosi. Quindi va bene. Il suo l'ha fatto. Ottima prestazione di Kumbulla. Centrocampisti. Allora, partiamo da Amadou Diavara. Voto 6,5. Qualità. Tanta qualità. Ogni tanto perde qualche palla di troppo, soprattutto all'inizio. Però la qualità ce l'ha. E come fa girare lui la palla. Non la fa girare nessuno. Con tanta velocità. E poi si sa anche farsi vedere in fase di ripiegamento. In fase di possesso palla. In fase di interdizione. Cioè, Amadou Diavara quanto non è rotto. È un cazzo di fenomeno. Cioè, sembra veramente un giocatore pazzesco. Non è un fenomeno. Però sembra veramente, non lo so, un marziano. Spero che condividi così, anche perché adesso che ci sei rotto bene tu, dovrà prendersi la responsabilità. Poi, Bigarra voto 6,5. Anche lui tanta bella qualità. Bravissimo nel possesso palla. L'ho visto veramente molto, molto, diciamo, molto attento. Preferito più lui a Diavara. Gli ho dato comunque 6,5 perché siamo lì. Prestazione sempre autorevole. Poi fa sempre le sue serpentine pazzesche. Voto 6,5. Carsdorp, voto 7. Ha fatto dei recuperi. Carsdorp. Cazzo! Il treno olandese. È un... Non lo so che cazzo sebbe... Sta stagione è sempre pazzesco. Carsdorp. Oh, non gli ho dato mai un'insufficienza. È incredibile. Carsdorp. Carsdorp. Che qualche anno fa lo odiavamo tutti. Lo volevamo morto. È un fenomeno. Cioè, sembra rinato. Fa tutto, tutto benissimo. Spinge. Si fa vedere... Fa le diagonali perfette. Cioè... Pazzesco. Spinazzola 6. Peggiore in campo della Roma. Relativamente peggiore in campo. Tranne... Di quelli titolari. Perché poi c'è stato Borca Maioral che anche lì non mi è piaciuto tantissimo. Anzi, non è vero. Gli voglio dare il... Dai, sì. Ok. Diamo peggiore in campo solo dei titolari. La situazione è buona comunque. Però è stato tenuto molto bene da Dodò e non è riuscito a dare il suo apporto effettivamente incisivo. Anche perché non riusciva più a dribblare qualcuno sulla fascia. Solo fa sempre. Anche in fase di ripiegamento. Non gli posso dare meno di 6 assolutamente. 6. 6. Easy. 3 quartisti. Pedro 6 e mezzo. Gioca un'ottima partita. Fa un assist. Secondo tempo si spegne. È giusto il cambio. Quindi non gli posso dire niente. Veramente... A livello di... Di giocate è uno dei più forti della Roma. Ma nettamente. Cioè... Quello che fa lui non lo fa nessuno a Roma. E ha proprio la qualità da campione che non ha nessuno. Quindi giusto. Applausi a scena aperta per Pedro. Mi è dispiaciuto proprio questo calo nel secondo tempo. E anche il fatto che non sia riuscito a trovare il gol. E che ogni tanto si sia mangiato qualche occasione. Quindi 6 e mezzo comunque d'obbligo. Pellegrini. Pellegrini voto 7 e mezzo. Migliore in campo. Gol. Ha fatto giocare la squadra benissimo. Ha fatto dei lanci pazzeschi. Se non mi sbaglio proprio quello per il... Un tiro di El Sharawi. Perché praticamente si è... Ok. Quello sul gol di El Sharawi che si è mangiato a porta vuota. E l'altro in cui il portiere ha fatto anche una bella parata. Sinceramente è stato molto molto bravo. Veramente tanto bravo. Se gioca così tutte le partite io non ti posso dire niente. 7 e mezzo migliori in campo non ho niente da dire. Capitano mio. Bravissimo. Giusto. Veramente dargli migliori in campo nettamente. Mkhitaryan 6. Ha fatto anche lui il suo quando ha giocato. La solita qualità poi indiscutibile. Le sue solite caratteristiche pazzesche le sappiamo. Spero non si sia fatto male veramente. Però quando è stato lui in campo la Roma ha volato. Quindi era d'obbligo il voto 6. Subentranti. Ne abbiamo fatto 5 cambi. Allora. Se non mi sbaglio. Bruno Perez io gli darei anche un senza voto. Cioè non fa niente di che. Gli darei 6 dai. 6. Diamogli un voto perché effettivamente qualcosa me la ricordo. 6. Bruno Perez il solito. Quando entra è sicuramente meglio di quando gioca da titolare. Quindi bravo Bruno. 6. Giustissimo. Passiamo a... Al Sharawi. Al Sharawi non gli posso dare meno di 7. Cazzo. Prestazione pazzesca. Ma io gli darei anche 7 e più. 7 e più per il Sharawi. Entra con tantissima qualità. Si mangia un gol davanti alla porta subito. Però trova il gol. Punta l'uomo. Lo salta. Tanta qualità. Tanta abilità. Poi si inventa un gol da solo praticamente. Era l'obbligo. 7 e più per il Sharawi. Poi abbiamo i Bagnets. Che anche lui... Io gli do... 6. Cioè a tutti li voglio dare un voto oggi. Perché se lo meritano. 6 ha i Bagnets. Fa il suo. Entra. Gioca bene. Poi... Poi è entrato... Se non mi sbaglio... Carles Perez. Carles Perez ok. Senza voto. Lui non ha toccato un pallone. Va bene. Senza voto. Giusto. Poi... E siamo a 4. Poi l'ultimo. Se non mi sbaglio. È entrato. È entrato. È entrato. Non ricordo che cazzo è entrato. Per dire. Per dire no. È entrato... Viarci. La titola... Boh. La mia risposta è... Boh. A Borca Maioral. Cazzo. Borca Maioral. Che è tra l'altro il primo che è entrato. Ecco perché non me lo ricordavo. Praticamente ha giocato a titolare. Borca Maioral. Voto 6. Peggiore in campo della Roma. Secondo me. Il 6 meno... Mi sembra... Perché poteva fare di più. Se mangiate un gol un po' a cazzo. Però va bene. Questo video finisce qui. Mi raccomando lasciate il like. Iscrivetevi al canale. Commentate qui sotto. Con la vostra opinione. Su questa partita. Bella. Buongiorno. Buongiorno.